La notte dei generali, mamma mia che titolo, è un film del 1967, film americano per la regia di Lutvak e abbiamo grandi attori, Peter O'Toole, Omar Sharif e Philippe Noiré, tanto per citarne alcuni, è un film sulla guerra, un film sulla seconda guerra mondiale un po' intricato, si parla di questi generali tedeschi che interpreta il generale Tanz, c'è tutta una serie di intrighi, viene assassinata una prostituta che poi era un agente segreto e sono coinvolti appunto questo generale Tanz con altri, è tutto un ingarbuglio, ecco, è difficile seguire questo film, come ho detto tante volte, questi film di guerra sono film per gli amanti, però gli amanti appunto del genere, una persona normale, ripeto, penso a mia madre dopo due secondi dice che stufita, però qui per rendere interessanti questi film si prendono grandi attori qua c'è Peter O'Toole, Peter O'Toole che è ancora insieme con Omar Sharif, ce li ricordiamo nel grande film Lawrence d'Arabia, ecco, Lawrence d'Arabia, Peter O'Toole ha il suo splendore e anche Omar Sharif, mi ricordo in Omar Sharif quando avevo visto questo film, mi avevano colpito quegli occhi, quegli occhi appunto neri di un nero così forte così potente, sembravano appunto due fulmini neri che ti trapassavano, e quei denti bianchi, era un grandissimo grandissimo attore egiziano, grande giocatore di bridge poi nella sua vecchiaia, qui appunto però era all'apice della forma, in quella scena dove l'uccideva, era appunto un beduino, l'uccideva un uomo e diceva un altro che la vita dell'uomo non contava niente, era più importante l'acqua perché dà la vita ecco, comunque, ce li ritroviamo qua in veste di generali, in questa notte dei generali e quindi un film di intrighi, un film di sospetti, un film da cui sfondo c'è la guerra mondiale la seconda guerra mondiale, ma, ma, ma è un film sulla riflessione sul potere, sulla corruzione su questa brama di comandare, di dirigere, di avere posti supremi, di avere un posto vicino al Führer che era il comandante, era il comandante di quei tempi, ecco, e Pietro O'Toole qui è perfetto, perfetto in questa sua forma di generale, tanz, algido, spietato, distruttore, come un angelo della morte ecco, con queste fattezze bionde che sembrano parlare del bello e invece nascondono questo odore di morte allora, io vi invito a guardare questo film, non è, è un film da digerire piano, 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 piano però è un film che ci fa conoscere anche alcune vicende della guerra mondiale, prendiamolo così bisogna starci dietro, bisogna stare attenti, bisogna seguire tutti i passi però, per chi ama la recitazione, è da guardarlo, è da assaporarlo Pietro O'Toole è Pietro O'Toole è Omar Sharif, è Omar Sharif e quindi, guardatelo per i cinefili come me, è sempre una perla da assaporare, da gustare, da vedere, da avere una perla nera preziosa per chi vuol conoscere il film, deve vederlo e farlo suo e per chi ha anche i film semplici beh, per una volta ha fatto uno sforzo guardate qualcosa di più denso, di più forte che questa notte di generali sia anche la vostra notte per sentirvi anche voi un po' più generale per quanto riguarda l'aspetto del cinema per quanto riguarda l'aspetto del cinema